ma vola di tanto in cucina siamo qui a palombaro sabina fai un giorno passa uno da qua e ti dice guarda cercavo di no ha detto vieni a ballare con me che non lo sai no mi sono aspettato che è fatto da voi secondo me l'importante è il vostro paese ma vabbè ma tanto lei è la stessa che ha detto a beppo non sapersi possiamo farlo scusate voi a che ora dovete rientrare dopo che riguardo lo dice come te chiami la risata più pazza